ciao a tutti come da titolo avevo scelto una bellissima location dove fare questo unboxing e a causa di un problema ho perso tutta la parte di presentazione quindi qua potete vedere il pacco il tavolo la forbice e io dovevo essere lì che vi avrei spiegato il pacco problemi tecnici un virus la telecamera ha fatto i capricci niente questo è il fine dello spacchettamento difatti vedete il contenuto che c'era dentro nel pacco per fortuna ha qualcosa ottenuto quindi qua potete vedere che cos'era quindi è un piatto da gara che mi sono fatto fare personalizzato con questa custodia unica del suo genere imbottita comoda da portare in giro con la doppia cerniera è un materiale molto leggero quindi è anche impermeabile quindi non ho problemi di nessun tipo il lavoro è stato fatto in maniera ottima se guardate le rifiniture la personalizzazione con il mio logo il legno usato di ottima qualità è molto leggero come piatto di fatti ho paura quasi di romperlo però chi l'ha progettato mi ha detto che è normale quindi non vedo l'ora di provarlo per il resto sono soddisfatto adesso sotto vi metterò sotto nella descrizione vi metterò il link dove potete ordinarne uno anche voi se lo volete io ve lo consiglio perché è fatto veramente bene nell'opera d'arte se vedete qua con la custodia il retro ci sta dentro comodissimo quindi infatti adesso è dentro non si vede neanche imbottito e ha la doppia cerniera quindi è anche comodissimo per questo breve video è tutto purtroppo vi lascio con questo fantastico location, paesaggio e se non l'avete ancora fatto vi consiglio di iscrivervi al mio canale di attivare la campanellina così sarete sempre informato per le prossime novità vi saluto ancora ciao a tutti